Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning Innanzitutto voglio augurarvi buon 2023 Spero che sarà un anno migliore per tutti voi In cui riuscirete a fare soprattutto tante modifiche alla vostra macchina O magari cambiarla se semplicemente vorrete una macchina migliore O la macchina comunque dei vostri sogni Detto questo, oggi andrò a continuare un po' le migliorie Sulla parte degli interni del beamer In quanto andremo, anzi andrò a sostituire il pomello del cambio con una replica M3 Questo è il pomello che andrò a sostituire È praticamente replica M3 Comprato su, acquistato su Aliexpress E in più andrò a sostituire la cuffia sia del cambio che del freno a mano Con un paio di cuffie che mi hanno regalato per il compleanno degli amici miei E sono praticamente in alcantara Sono fatte molto bene con le cuciture M Questa è quella del pomello del cambio E questa di qua è quella per il freno a mano Quindi, allora, non vi faccio vedere proprio tutti i procedimenti Perché per cambiare il pomello basta tirarlo forte E sarà veramente ardua la cosa Ho già visto dei tutorial Poi in più, ecco, ci sono già 3000 tutorial su YouTube Quindi è inutile, vi faccio vedere come si sostituisce Vi farò vedere direttamente il risultato finale Quindi, a tra poco Vi faccio vedere come si sostituisce Vi faccio vedere come si sostituisce Oh, finalmente Ho montato il nuovo pomello Aiexpress Sono riuscito a fittarlo E non ruota È perfetto Ve lo garantisco Ora vi farò anche vedere se non mi credete Abbiamo montato, anzi Ho montato La cuffia in alcantara Sia del pomello del cambio Che della leva del freno a mano E sono fatte veramente bene Mi dovrei dare giusto una pulitina Perché ci sta qualche residuo Di polvere sporcizia varia Questo è il pomello che non ruota È perfettamente saldo Wow, ci stanno veramente bene Ok ragazzi Abbiamo visto come Diciamo Fittano Questi prodotti che ho comprato per la macchina Sono veramente fatti bene Sono di qualità E fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Secondo voi Se ci stanno bene Se ci stanno male Se fareste anche Altre cose All'interno della macchina In alcantara Quindi Per questo video è tutto Lasciate un bel mi piace Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi su Instagram Mitch Tuning Vi saluta Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti